Quale modo migliore per dare importanza ad Altamur alla città del pane, se non dedicandole una puntata di Backoff Italia, il noto programma di Real Time in onda su canale 31 del Digitale Terrestre? La puntata, girata in Piazza Duomo prima dell'inizio dell'estate, andrà in onda venerdì 28 ottobre alle ore 21 e sarà condotta da Benedetta Parudi, assieme ai giudici Ernst Knamm, il re del cioccolato, Clelia Donofrio, la Lady di Ferro e il maestro panificatore Antonio Lamberto Martino. Orgoglio per la città di Altamura, che vedrà le sue prelibatezze in un programma di fama nazionale oltre, raccontare ciò che di bello il territorio offre e garanzia di successo. Appuntamento da segnare in agenda, arriva Backoff.